allora teca system la cueva che finale è stata per te ha giocato benissimo una bella partita si è stata abbastanza come tu siete impegnati anche te una roccia insostituibile sei stato bravo combattura combattuta bella partita insomma non è stata una passeggiata come come qualcuno potrebbe anche pieno di riconoscimento questo teca system poteva far meglio allora tutto tutto bene grazie è una delle poche partite combattute insomma fino all'ultimo perché poi alla fine nessuno grande sempre talento elegantissimo in campo bravo partita molto combattuta basta andare a fare la doccia porterone qualche gol insomma che hanno fatto ma diciamo però ha parato ha parato ha levato tanto tanti guai ha levato dalla porta luca ha visto dalla panchina questa finale c'è con vedervi vedere i due risultati però ora da avversari com'è dai ditevi ditevi qualcosa di sensato qualcosa di vi siete divertiti comunque le squadre hanno risposto bene tutte e due sono divertiti loro luca quando si gioca a questi livelli insomma un po di tensione c'è sempre ma io sono claudio scusami claudio attenzione anche per me grande claudio mazzini combattuta ecco questo questo è importante una vera semifinale insomma bravi ragazzi e complimenti bravi mi restano mi restano